Ultimo appuntamento con l'informazione di Florence TV sulla viabilità in Toscana, una cordiale buonasera ad Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano 6 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta in direzione Bologna. In A11 a causa di un veicolo in avaria 2 km di coda tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Sempre in A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipi, lì a causa di lavori, 3 km di coda tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina con code in uscita a La Strassigna in direzione Livorno, 2 km di coda invece verso Firenze. Cantieri di Firenze a causa di un trasloco domani 10 settembre in orario 7.13 rimarrà chiusa a Via Michelangelo Buonarroti tra Via dell'Agnole e Via Ghibellina. E anche per oggi è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!